E adesso, tutto il penso, fuori la voce per i nostri meoni! Con il 288, Sergio! Con il numero 3, Cristian! Con il numero 5, Antonio Junior! Con il numero 7, Pasquale! Con il numero 10, Mattia! Con il numero 14, Thomas! Con il numero 23, Sofian! Con il numero 31, Mattia! Con il numero 32, Pietro! Con il numero 33, Doven! E con il numero 77, David! Allenatore, Paolo! A disposizione con il numero 12, Lezzerini! Con il numero 8, Tessman! Con il numero 9, Forte! Con il numero 17, Jonsen! Con il numero 18, Leymans! Con il numero 19, Jarkerson! Con il numero 38, Bill..